Allora, a tre settimane che Aurora sta prendendo sia la mezza bustina di Seraplus che il BZFlox, quindi due volte a mattino e alla sera, sto notando dei miglioramenti sensibili. Si libera più facilmente e penso che scarichi proprio bene l'intestino, perché lo vedo dalla quantità di feci. E l'altro miglioramento è dal punto di vista proprio del comportamento, è meno ansiosa, più tranquilla, dorme meglio. Quest'attitudine anche all'attenzione, alla collaborazione che ha con i terapisti, con gli insegnanti, è stata appunto vista anche da altre persone. Quindi io sono molto contenta. Vorrei sapere a questo punto che cosa facciamo, se è il caso di aumentare il dosaggio o introdurre qualche cosa di nuovo. Inoltre, mangia volentieri il pane Primus, che ha un sapore abbastanza particolare, però lei lo mangia. Magari lascia la crosta, però la mollica l'assume con interesse.